Musica Ora che hai lo Sharingan riesci a vedere? Vedo l'immagine della tua fine! La mia fine, eh? Molto bene. Falla vedere anche a me. Mille falchi! Plusso dei mille falchi! Complimenti. Vorrei farti un'ultima domanda. La farsa delle tue arti è piuttosto noiosa. Che cosa vuoi sapere? Non prenderti gioco di me! Un'illusione? Rispondi alla mia domanda. Ti ho trafitto in modo che tu possa parlare. La terza persona che è riuscita a ottenere lo Sharingan ipnotico. Chi era nel clan Ucia? Perché vuoi sapere questo particolare? Perché dopo di te andrò ad uccidere lui. Il suo nome. Ucia. Madara. Madara Ucia è morto molti anni or sono! Mi stai prendendo in giro! Madara è ancora vivo. Piantala con le cazzate! Tu devi sapere che quasi sempre per riuscire a sopravvivere noi ci aggrappiamo a delle convinzioni che molto spesso chiamiamo ingenuamente realtà. Ma la nostra comprensione delle cose a volte può trarci in inganno. E ciò che erroneamente riteniamo sia reale potrebbe costituire invece una mera illusione che ci allontana dalla verità. Quella notte quando usasti lo Sharingan ipnotico su di me per te era solo un'illusione ma per me era reale! Quattro in Giorgio Quattro in Giorgio